L'acqua di Montedoglio finalmente disseta l'agricoltura della Val di Chiana. Il Ministero dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare ha infatti finanziato al Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno la realizzazione del primo lotto del distretto Enriguo di Foiano della Chiana. Finalmente riprende lo sviluppo delle reti Enrigue in un'area ad alta vocazione agricola dove le imprese da anni aspettano l'acqua di Montedoglio, il principale invaso dell'Italia centrale con i suoi 140 milioni di metri cubi d'acqua, commenta con soddisfazione la Presidente Serena Stefani. Dunque quasi 7 milioni di euro destinati alla realizzazione del primo lotto del distretto Enriguo numero 23 al servizio delle aziende di Foiano. Sarà realizzata una piccola ma importante porzione dell'intero distretto Enriguo che, se e quando sarà ultimato, riuscirà a dissetare una superficie di 2300 ettari attraverso l'installazione di oltre 40 chilometri di condotti. dotate di circa 150 punti di consegna che per essere posizionati e messi in funzione richiedono un investimento complessivo di 40 milioni. Dunque un primo passo oggi per superare il paradosso del sistema Montedoglio in base a vasche di compenso piene e campi all'asciutto.